Clean di Glenn Cooper per editrice Nord Sembrava un animale che sbatteva contro le sbarre di una gabbia. La donna aveva le mani fragili e percorse da vene bluastre, strette intorno alle sponde del letto d'ospedale e cercava di piegarle con tutta la forza del corpo immaciato. Quel frastuono risalì il corridoio vuoto e giunse fino alla stanza dell'infermiere. «Eccola che ci riprova», disse l'infermiera più giovane. La caposala non anzò nemmeno gli occhi dal foglio. «È sicura che non possiamo immobilizzarla?» chiese la ragazza. «C'è solo lei in tutto il reparto, a chi vuoi che dia fastidio? A me».